... Controlli a tappeto a Castelvetrano si cerca, Matteo Messina Denaro. Violenza sessuale annullata, la condanna per Don Librizi, processo da rifare. Una casa per migranti nei locali tolti a Grigoli. Qualità delle produzioni scelta vincente fra aziende, convegno stamane a Mazzara. Musei aperti per le festività in Sicilia. Esposizione fotografica e acquari da domani a Mazzara. Ben ritrovati al TG8 Informazione. Apriamo con la cronaca. La polizia fa terra bruciata attorno al superlatitante Matteo Messina Denaro. Ieri Castelvetrano è stata messa a soquadro nel corso di un'operazione di controllo alla ricerca di elementi utili a capire dove sia il boss. Sentiamo i servizi. Castelvetrano è stata messa sottosopra ieri dalla polizia in un'operazione inedita nel modo di svolgimento e nelle finalità. Non ci sono stati arresti ma perquisizioni a sorpresa. Forse con la speranza di trovare l'ultimo dei boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993. O almeno per acquisire elementi utili a capire dove sia. Obiettivo della procura antimafia di Palermo che ha coordinato il blitz una serie di persone ritenute vicine al boss. In casa loro e nelle loro aziende sono piombati all'improvviso circa 200 agenti della polizia appartenenti alle squadre mobili di Palermo e Trapani e al servizio centrale operativo del Viminale. Le perquisizioni hanno interessato 25 persone. Si tratta di personaggi già noti, spiega il capo del servizio centrale operativo Alessandro Giuliano. Alcuni già arrestati e condannati, altre volte denunciati, ora indagati per procurata in osservanza di pena aggravata dalle finalità mafiose. Nessuno di loro è stato arrestato, tutti sono a piede libero al momento, ma hanno ricevuto un avviso di garanzia collegato alla perquisizione per il reato di procurata in osservanza di pena. In altre parole sono ritenute concretamente attive nella protezione del boss latitante e le perquisizioni e i sequestri effettuati servono a trovare elementi che possano portare alla cattura del latitante, anche se Messina Denaro è abile nel non lasciare alcuna traccia di sé, tanto che c'è chi dubita che sia ancora in vita. Controlli sono stati eseguiti all'interno del circolo del dopolavoro ferroviario che occupa abusivamente un locale della stazione con le spese di elettricità a carico della società ferroviaria. Le perquisizioni hanno anche interessato alcuni commercianti, è stato sequestrato tantissimo materiale documentale, computer, agende, registratori di cassa di imprenditori e di commercianti. Perquisizioni hanno subito titolari di grandi negozi nel centro di Castelvetrano, ci sono state perquisizioni in città ma anche in case di campagna. I poliziotti hanno anche utilizzato attrezzature particolari per verificare l'esistenza di cavità o addirittura bunker all'interno di immobili. Gli agenti hanno sequestrato 25 fucili, una decina di rivoltelle e pistole automatiche e circa 2000 munizioni. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a nove anni dell'ex direttore della Caritas di Trapani, Don Sergio Librizi, imputato di concussione e violenza sessuale. Dunque processo da rifare. Librizi era stato arrestato nel giugno del 2014 e sospeso da ogni incarico. I reati contestati li avrebbe commessi quale membro del Comitato per il riconoscimento dello status di rifugiato. Comincia oggi la fase finale del processo al pediatra marsalese Antonino Parrinello per la responsabilità della morte del piccolo Andrea Mistretta. Si terrà infatti la requisitoria del PM. Nell'ultima udienza i due superperiti. Il professore Francesco De Stefano, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova e il dottore Armando Cama, responsabile di neurochirurgia dell'ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo Ligure, in estrema sintesi hanno affermato che in presenza di quel quadro clinico il comportamento del dottore Parrinello fu imprudente, ma hanno aggiunto che mancherebbe il nesso causale tra questa imprudenza e il decesso dello sfortunato bambino. Non sarebbe possibile, insomma, stabilire se in caso di immediato trasferimento in ospedale il piccolo si sarebbe salvato. Ricordiamo Andrea Mistretta morì a soli tre anni dopo quattro giorni di agonia il 13 aprile del 2016 all'ospedale Villa Sofia di Palermo per un trauma cranico con emorragia cerebrale. Secondo l'accusa il pediatra avrebbe sottovalutato le conseguenze di una caduta del piccolo che nel pomeriggio del 9 aprile 2016 aveva battuto la testa al suolo mentre a casa giocava con un pallone. La decisione di destinare gli immensi locali del Cedi, l'ex centro di stoccaggio e distribuzione del gruppo 6 GDO ad area di accoglienza e ricovero per la flotta di migliaia di lavoratori extracomunitari che nei mesi autunnali lavorano nelle campagne del Belice è arrivata un po' a sorpresa e sta suscitando molte polemiche a Castelvetrano. Sentiamo. Un altro colpo mortale potrebbe essere presto inferto alla città di Castelvetrano che negli ultimi mesi ha già dovuto subire gli strali dello scioglimento per le presunte infiltrazioni mafiose che l'hanno letteralmente messa in ginocchio. La decisione di destinare gli immensi locali del Cedi, l'ex centro di stoccaggio e distribuzione della gruppo 6 GDO ad area di accoglienza e ricovero per la flotta di migliaia di lavoratori extracomunitari che nei mesi autunnali lavorano nelle campagne del Belice è arrivata un po' a sorpresa con il neoprefetto della provincia di Trapani, il dottor Darko Pellas che unitamente ad alcuni funzionali dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla mafia e accompagnati dal commissario straordinario della città, Salvatore Caccamo hanno effettuato un accurato sopralluogo nella giornata di ieri presso gli immensi capannoni di Via Partanna. La notizia aveva fatto il giro della città e qualcuno aveva anche ipotizzato che la letterina a Babbo Natale che un gruppo di lavoratori disperati aveva scritto qualche giorno fa per tenere viva l'attenzione sul loro annoso problema avesse sortito l'effetto di risvegliare lo Stato che sembrava aver abbandonato questo lembo di Sicilia. E invece è arrivata la doccia fredda del vero motivo di questo improvviso sopralluogo mattutino. Il progetto del prefetto Pellas è quello di destinare una parte dell'area dei capannoni dopo un lavoro di adeguamento del quale dovrebbe farsi carico l'Agenzia per i beni confiscati a centro di accoglienza per i migliaia di extracomunitari regolarmente assunti che nel periodo da settembre a novembre sono impegnati nei campi di Castelvetrano, Campobello a Partanna al fine di eliminare l'indegno campo profughi di contrada Erbe Bianca a Campobello di Mazzara che è balzata agli onori della cronaca nazionale per le disumani condizioni nel quale vivono i lavoratori seggionali. La proposta sarà adesso vagliata dai tecnici del demanio che dovranno valutare se sussistano le condizioni strutturali e poi in caso positivo passerà al vaglio della Commissione Sordinaria. Sull'argomento il dottore Caccamo ha dichiarato che si tratta di un'ipotesi che ci è stata sottoposta al signor Prefetto e che deve ancora essere definita nei dettagli e nell'eventuale fattibilità. Si tratterebbe comunque di un intervento temporaneo e limitato nel tempo e che interesserebbe solo una parte della struttura, ha affermato Caccamo. È preciso intendimento dell'Agenzia Nazionale di mantenere la titolarità del bene per continuare a ricercare imprenditori privati che abbiano voglia di investire acquisendo l'area in questione. Restiamo a Castelvetrano. La città piena di immondizia non è colpa né degli operatori ecologici né dei commissari. Bisogna sfatare questo luogo comune perché se Castelvetrano è in emergenza tutto è nato da un problema di conferimento nella discarica trapanese cui è seguito l'obbligo dalla Regione per Castelvetrano di raccogliere dalle strade solo un certo quantitativo di rifiuti al giorno. Ieri il commissario Salvatore Caccamo si è recato a Palermo proprio per perorare la causa del comune invaso dai rifiuti. La buona notizia riguarda l'essere riuscito ad ottenere un provvedimento che consentirà di poter conferire da subito da 37 a 45 tonnellate al giorno nella discarica borranea di Trapani e nella possibilità di poter cercare altri siti dove poter conferire le 600 tonnellate di immondizia stimate all'interno della città. Le cure per un gatto randaggio costate oltre 2000 euro avevano procurato molte critiche alla civica amministrazione di Campobello di Mazzara che oggi ha deciso di replicare. Sentiamo. Nei giorni scorsi ci eravamo occupati di un comunicato divulgato dal gruppo politico Io amo Campobello relativamente alle forti critiche per l'amministrazione che aveva speso 2120 euro per il ricovero di un gatto randaggio malato deplorando la scelta di non aiutare le famiglie bisognose e bensì un gatto. Proprio ieri è arrivata la replica dell'amministrazione per voce dell'assessore alla Polizia Municipale Natale Indelicato. Ancora una volta così come già avvenuto per il piano paesaggistico si registra la completa ignoranza delle normative che regolano l'attività della pubblica amministrazione da parte di consiglieri che piuttosto che svolgere il loro mandato con correttezza e lealtà continuano a criticare sempre e indistintamente ogni azione di questa amministrazione comunale afferma Indelicato. Evidentemente il potere logora chi non ce l'ha nella fattispecie componente di Ioama Campobello attraverso un comunicato stampa infuocato ma molto lacunoso criticano la spesa sostenuta dal Comune per le cure di un gatto randaggio facendolo apparire discrezionale e omettendo di precisare che la normativa nazionale e regionale in tema di randaggismo impone degli obblighi ben precisi a carico delle amministrazioni comunali che nel momento in cui ricevono una segnalazione relativa a un randaggio in cattive condizioni di salute sono tenute a intervenire contattando un medico veterinario in grado di prestare le cure necessarie nel caso specifico il gatto era affetto da una grave forma di AIDS felina malattia molto contagiosa per i simili che necessitava di cure di una lunga degenza poiché l'ASP non assicura questo tipo di intervento l'amministrazione ha dovuto rivolgersi ad una clinica veterinaria che consentisse il ricovero l'unica struttura autorizzata nelle vicinanze era la San Vito di Mazzara del Vallo dove il gatto è stato ricoverato per 98 giorni fino a quando non è stato affidato ad un'associazione animalista che si è fatto carico del suo mantenimento precisa ancora l'assessore Indelicato non essendo possibile reinserirlo nel territorio perché avrebbe potuto innescare un'epidemia trattandosi di un caso di emergenza non è stato certamente possibile aspettare l'esito di una gara Io amo Campobello, contesta quindi le somme spese dall'amministrazione per gli interventi di randaggismo ma evidentemente non conosce il costo che i comuni limitrofi sostengono per arginare questo problema sarebbe stato forse più giusto si chiede Indelicato di lasciare l'animale libero e diffondere la malattia in questo modo si sarebbero risparmiati forse 2.000 euro da destinare ad altri indigenti della città ma sull'argomento indigenti gli stessi consiglieri comunali non hanno votato il provvedimento in favore delle famiglie bisognose denotando quindi una certa incoerenza Sciopero ad oltranza per i precari della scuola vediamo il servizio Tornano in piazzi precari della scuola che chiedono stabilizzazione dopo le proteste dei giorni scorsi arriva la decisione di protestare a oltranza almeno fino a martedì quando la manovra approderà alla Camera non si ferma così la mobilitazione dei cocco delle segreterie scolastiche si parte con l'attivo unitario di Nidil CGL, Felsa Cisle e Wiltemp venerdì invece sarà la volta di un sit-in davanti alla prefettura a Palermo presidi e sit-in sono previsti anche lunedì quando i precari delle scuole presideranno contemporaneamente le piazze antistanti le sedi dell'Ars e della Presidenta della Regione a Palermo sono circa 200 precari delle scuole tra amministrativi, tecnici e personale ausiliario su 750 in tutta Italia il capoluogo siciliano secondo quanto riferiti i sindacati rappresenta la piazza più calda siamo legittimamente e fortemente preoccupati per il futuro occupazionale di questi lavoratori dopo oltre 20 anni non sono stati garantiti gli impegni presi dal MIUR e non è stata individuata ancora una soluzione annuncia Andrea Gattuso Francesco Amato e Danilo Borrelli di Nidil CGL Palermo Felsacis Sicilia e Wilton Palermo noi non ci fermiamo scendiamo in piazza per chiedere la stabilizzazione del personale precario i sindacati hanno inviato una lettera con il programma di mobilitazione al prefetto all'Ars Sicilia dirigenti delle istituzioni scolastiche di Palermo e provincia a tutti i lavoratori co-co-co al Presidente della Regione Nello Musumeci e ai capigruppo dell'Ars visto il quadro normativo che pone dall'1 gennaio 2018 il divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare e rinnovare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e preso atto dell'iter parlamentare che ad oggi disattende gli impegni presi dal MIUR aggiungono per la stabilizzazione del personale abbiamo deciso di indire un nuovo percorso di mobilitazione che accompagnerà l'iter della legge di bilancio si è svolto stamani a Mazzara il convegno sul tema qualità delle produzioni scelta vincente fra aziende vediamo le interviste assolutamente oggi siamo qui con questa iniziativa proprio per voler riaffermare un principio che è quello della certificazione della qualità totale del lavoro che cosa significa oggi nel mondo la domanda di Median Italy è cresciuta tantissimo ed è cresciuta così tanto da far diventare il nostro paese uno dei paesi più importanti in termini di esportazione nel mondo però insieme a questa domanda di Median Italy c'è un altro quesito che dobbiamo porci la qualità delle produzioni che noi oggi siamo in grado di certificare è sicuramente la qualità delle materie prime la qualità dei metodi e dei processi di trasformazione utilizzati ma quello a cui noi aspiriamo invece è la certificazione della qualità totale del prodotto che cosa significa che un prodotto di qualità deve essere assolutamente un prodotto realizzato nel rispetto dei contratti nel rispetto delle leggi delle normative a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e quindi può esserci soltanto cibo di qualità se si realizza un lavoro di qualità certo sono due cose che sono appunto inscindibili territorio prodotto e coloro che lavorano nel territorio noi oggi vogliamo fare una chiacchierata più che un convegno non abbiamo questa velleità anche se diciamo gli interlocutori e i relatori sono di tutto spessore vogliamo tirare fuori delle idee e fare delle considerazioni su quello che è stato fatto fino a oggi capire se siamo sulla giusta strada e eventualmente prendere gli accorgimenti del caso noi abbiamo deciso di cambiare registro perché consapevoli del fatto che sulla qualità si gioca la sfida del successo anche economico e della salvaguardia del mare ecco ci sono questi grandi margini di miglioramento da effettuare e stiamo lavorando in tal senso perché i prodotti possono essere veramente d'eccellenza certificati e apprezzati dal consumatore in tal senso noi stiamo cercando di introdurre come dire processi a bassissimo impatto ambientale nella trasformazione dei prodotti sostituendo la chimica queste prove le faremo a titolarità con i fondi del FEAMP e certamente le imprese potranno avere giovamento da questa sperimentazione l'altro aspetto importante che voglio sottolineare è che ci sono grandi opportunità per le imprese per affermarsi e per accrescersi abbiamo emanato tanti bandi e in questo fine anno ne emaneremo altri quindi le occasioni ci sono è il momento che veramente la rete dei portatori di interesse remi tutti dalla stessa parte lettera aperta al segretario provinciale al segretario comunale del partito democratico sentiamo le elezioni politiche sono sempre più vicine e il partito democratico di Mazzara del Vallo ha il dovere di essere protagonista nel collegio elettorale nel quale la nostra città ha la maggiore rappresentatività consapevoli che i traguardi importanti si possono raggiungere solo attraverso un impegno condiviso riteniamo non più procrastinabile aprire la fase organizzativa anche al fine di cambiare verso al confronto politico interno ad evitare che si condanni per sempre Mazzara alla marginalità in questa provincia l'appuntamento con le elezioni politiche dovrà rappresentare il primo passo per l'avvio di un progetto alternativo al governo della città che oggi vive una crisi economica senza precedenti e si trova come sempre più isolata e incapace di intercettare risorse e proporre programmi di sviluppo del territorio è arrivato il momento che ciascuno si faccia carico delle proprie responsabilità nell'interesse generale al fine di rivendicare un ruolo di primo piano nella prossima competizione elettorale per Mazzara del Vallo se necessario con forza e tenacia non per ottenere ritorni personali ma nell'interesse di un'intera collettività che deve trovare attraverso la buona politica un'occasione di rilancio nel nome di tale interesse generale è arrivato il momento di mettere in pratica il buonsenso che deve vederci uniti al nostro interno e capaci di trovare soluzioni di sintesi perché i nostri avversari sono fuori dal partito e mai dentro si è svolta ieri al villino Florio di Palermo la prima riunione sul progetto dell'anastilosi del Tempio G di Selinunte in archeologia l'anastilosi e la tecnica di restauro con la quale si rimettono insieme elemento per elemento i pezzi originali di una costruzione andata distrutta l'incontro è stato fortemente voluto da Vittorio Sgarbi nominato assessore ai beni culturali e identità siciliana dal presidente Nello Musumeci Sgarbi promette l'ottava meraviglia del mondo con la ricostruzione del maestoso Tempio di Selinunte e dalle parole si passa infatti subito ai fatti nella foto pubblicata sull'account Twitter dell'assessore si nota anche la presenza dell'archeologo Sebastiano Tusa e dello scrittore Valerio Massimo Manfredi il sindaco di Mazzara del Vallo l'onorevole Nicola Cristaldi torna a parlare del satiro danzante sentiamo il satiro non parte e resta nel museo di Mazzara del Vallo prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi dalle quali si apprende che non c'è alcuna intenzione di spostare il satiro dal museo di Mazzara del Vallo ponendo fine a viaggi per il mondo sulla cui utilità ognuno ha il diritto di esprimere qualunque tipo di apprezzamenti per me la vicenda finisce qui decisando di essere già abbastanza noto in Sicilia e di non avere bisogno di accrescere la mia popolarità alimentando polemiche con figure che tra l'altro apprezzo al punto di averne nominato qualcuna come mio consulente lo ha detto il sindaco di Mazzara del Vallo onorevole Nicola Cristaldi In Sicilia musei e parchi archeologici aperti per le festività Dopo un'intesa raggiunta con i sindacati Vittorio Sgarbi neo-assessore regionale ai beni culturali della regione siciliana ha disposto l'apertura di musei e parchi archeologici durante la festività natalizia dovrebbe essere la regola ma ancora così non è i musei spiega Sgarbi vanno aperti proprio quando maggiore il flusso dei visitatori sembra che l'assessore regionale insieme a un gruppo di volontari di rinascimento si sia offerto come volontario nella notte di capodanno per tenere aperti i musei e fare da guida ai visitatori i custodi svolgono un ruolo fondamentale nel rapporto tra visitatori e musei e va riconosciuto il loro ruolo è per questo che mi farò promotore della giornata nazionale dei custodi ha proseguito Sgarbi l'assessore regionale dei beni culturali sul tema musei aperti a Natale si è rivolto anche al sindaco di Torino in ossequio al diktat del webmaster Luigi Di Maio il sindaco terra i musei chiusi io personalmente un gruppo di volontari di rinascimento ci offriamo come volontari nella notte di capodanno immediata la replica invito Sgarbi a informarsi ha dichiarato l'assessore alla cultura del capoluogo piemontese Francesca Leone Torino è una città culturalmente viva piena di iniziative da anni la vigilia di Natale quello di Santo Stefano e capodanno turisti e cittadini potranno visitare un gran numero di musei pinacoteche palazzi storici e spazi espositivi sottolinea l'assessore a Leon si tratta di una programmazione volta a favorire durante le festività di fine anno la fruizione del patrimonio culturale cittadino il comitato di Castelvetrano della società Dante Alighieri ricorda nel centenario della nascita la figura e l'opera di Ferruccio Centonce narratore drammaturgo poeta elzevirista partecipò nel corso del secondo conflitto mondiale alle campagne balcanica e italo-jugoslava che gli valsero due croci al merito e segnarono profondamente il suo mondo interiore ispirando alcuni fra i temi ricorrenti nelle sue opere collaborò attivamente con molteplici quotidiani e periodici sia regionali che nazionali e con importanti riviste letterarie nel corso della manifestazione organizzata con il patrocinio della città di Castelvetrano saranno proposte letture dalle liriche dalle raccolte narrative dalle opere teatrali e dagli iscritti pubblicati sulle colonne del nuovo risveglio il giornale del quale fu direttore responsabile interverranno Giuseppe Buongiorno Francesco Calcara Marilena Monti Ermelinda Palmeri e Valerio Rizzo l'evento si terrà domani alle ore 17 presso il Circolo della Gioventù esposizione fotografica e acquari da domani a Mazzara sentiamo doppia inaugurazione sabato 16 dicembre alle 17 nei nuovi locali del collegio dei Gesuiti saranno aperte al pubblico le sale dove sarà possibile osservare le foto del festino di San Vito realizzate dall'associazione i vicoli del Mediterraneo e gli acquari installati dalla locale sezione della Proloco in collaborazione con l'azienda agricola di Giorgi e l'Oasi degli Animali oltre 40 bellissimi scatti fotografici che riprendono alcuni aspetti salenti del festino di San Vito 2017 e la possibilità di ammirare acquari di acqua dolce e acqua salata per tutto il periodo delle festività natalizie pesci piante e realizzazioni artistiche per la gioia di grandi e piccini e un acquario particolare quello con al suo interno la natività le due esposizioni possono essere ammirate ogni giorno nel collegio dei Gesuiti da lunedì a sabato dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20 la domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 a Marsala Smile in scena con Non è vero ma ci credo la commedia brillante del grande Peppino De Filippo tra maggiori interpreti e autori del teatro napoletano sarà portata in scena al teatro comunale Sollima domenica 17 dicembre alle ore 17.30 dalla compagnia teatrale Smile diretta da Maurizio Rallo il costo del biglietto 5 euro platea e palchi centrali e 3 euro palchi laterali e loggione e con questa notizia noi per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con l'informazione su Tele 8 che ritornerà puntuale domani alle ore 14 una buona serata